Dottore Moscato, purtroppo oggi le malattie reumatiche colpiscono ben 5 milioni di persone. In Campania si parla di 500 mila persone, in provincia di Salerno ben 100 mila. È una situazione abbastanza grave ed importante da non sottovalutare, ma ci sono in particolare tre malattie gravissime che riguardano le malattie reumatiche. Quali sono in particolare? Le più importanti, quelle infiammatorie, sono l'artrite reumatoide, la spondilite anchilosante e l'opiotese eritematoso sistemico. Sono patologie importanti che colpiscono soprattutto i giovani. Molto spesso si pensa che le malattie reumatiche colpiscono gli anziani. Certo, ci sono quelle lì, però sono a lente evoluzione. Noi dobbiamo fare una diagnosi precoce soprattutto in quelle infiammatorie, in quelle più gravi, che colpiscono una fascia di età che va dai 20 ai 50 anni. Dobbiamo mettere in campo delle indagini sia strumentali che ematologiche. Abbiamo a disposizione il fattore reumatoide, l'anticitrullina, che ci permette di poter fare una diagnosi precoce. La diagnosi precoce, come diceva lei, è fondamentale per bloccare la malattia? Certo, la diagnosi precoce è importantissima perché noi blocchiamo l'evoluzione della patologia ed evitiamo poi un'eventuale disabilità. Dottore Moscato, a Salerno, in provincia in generale, in regione Campania, siamo in grado di curare questi pazienti? Certamente, abbiamo un centro per ogni provincia e negli ultimi tempi c'è proprio una volontà di sviluppare la reumatologia anche presso l'azienda ospedaliera universitaria di Salerno. Il nuovo management ci sta dando molto aiuto per sviluppare questa branca e presto arriveranno nuovi medici che potranno evitare l'emigrazione sanitaria che noi purtroppo scontiamo in questa regione. Uno dei problemi fondamentali è proprio la migrazione sanitaria dovuta anche alla carenza di reumatologi. Certo, c'è stato in passata proprio questa grossa emigrazione sanitaria verso le regioni vicine però c'è una volontà sia da parte di noi reumatologi di tutta la Campania sia da parte dei management delle varie aziende sanitarie di bloccare questa emigrazione perché ci sono dei medici molto bravi anche in Campania hanno bisogno solo di un supporto in termini numerici e anche un supporto da parte dei management delle aziende per capire il reale problema di questa malattia in modo da poter dare delle risposte in Campania in modo da non far andare più le persone in altre regioni.